Questi ornamenti sono indossati dalle donne Bhanjara, una popolazione seminomade dell'India meridionale. Attraverso ciò che indossano, le donne Bhanjara esprimono la loro storia e la loro identità, come questi anelli da piede realizzati con monete inglesi di epoca coloniale, che indicano il numero dei figli avuti. Ancora oggi, queste donne hanno un ruolo fondamentale, sono il perno della società e sono considerate un vero tesoro. E quello che indossi tu racconta qualcosa di te, della tua storia, della tua identità?